bravo bravo sempre spezzonarlo tutto bravo ascolta non sempre si mettono in posizione strambe ha fatto bene a girargli dietro la sua panda 4x4 è stata ritrovata parcheggiata l'aria assegnata per le ricerche è quella tra la pozza di coldo regia e la valle izzino quella la conosco ambole riva sul canto ma non trovo più il padrone non mi frega ti porto a casa se eri più picco ti avevo già preso in braccio e ti avevo già messo dentro deve andare di là perché loro hanno detto che sono di là come c'è? i dossi i pistolotti ehi guarda che i tuoi padroni sono di là ma ne dici dissi loro è però l'arriendo assunto ma c'è tutto quanti sono attenti Grazie.